E' stato inaugurato oggi nel parco urbano di Scampia il nuovo campo di calcio a 5 per i giovani del quartiere. Scampia Stadium, il campetto della gioia, è il nome con cui hanno scelto di intitolarlo i piccoli alunni della scuola Virgilio IV, vincitori del bando di idee promosso dall'amministrazione comunale che ha coinvolto tutti gli istituti della Municipalità. Il campo è stato realizzato dal Comune con oltre 180 mila euro di fondi ministeriali nell'ambito dell'iniziativa Io Gioco Legale del Piano Azione Giovani Sicurezza e Legalità. Questa mattina una piccola partita inaugurale alla presenza del sindaco Luigi De Magistris, degli assessori allo sport e alla scuola Ciro Borriello e Anna Maria Palmieri insieme al presidente dell'ottava Municipalità. Ai ragazzi che hanno indossato le maglie con il logo dell'iniziativa sono state consegnate delle borse sportive con un completo da calcio. L'hanno chiamato Scampia Stadium, mi sembra un bel nome, un bel contesto nel parco vicino alla Municipalità, a quella che sarà a breve un presidio dell'Università della nostra città e un ulteriore recupero per i giovani e per i bambini e per i ragazzi della nostra città. Un bel segnale. Un momento importante oggi perché spesso si parla di Scampia e dell'ottava Municipalità per ovviamente per fatti gravi, per fatti di camurra. Invece su questa Municipalità bisogna parlare soprattutto di cose importanti, delle eccellenze che stanno sul territorio e tutti gli strumenti che le istituzioni possono favorire per queste eccellenze, ovviamente come il campo di calcio, è un valore aggiunto per il territorio, territorio come i cittadini, le persone che ci vivono, le scuole, le parrocchie e quindi è un bellissimo momento oggi.